Oggi non voglio parlarvi di un libro in particolare, bensì di un autore. Un autore che è diventato un caposaldo della letteratura italiana e soprattutto una pietra fondante della letteratura italiana per ragazzi. Sto parlando di Emilio Salgari. Salgari ci ha infatti regalato alcuni dei personaggi più memorabili dei romanzi d'avventure italiani, ovvero il Corsaro Nero e soprattutto Sandokan. Questi personaggi sono talmente famosi, talmente conosciuti che anche chi non ha mai letto un romanzo ne conosce il nome. Tutti coloro che hanno più di 30 anni hanno sicuramente visto qualche sceneggiato, qualche serie tv o qualche vecchio film al cinema. Questi personaggi nascono dalla fantasia di un uomo che non ha mai lasciato l'Italia, di una persona che ci ha raccontato la giungla, ci ha raccontato il deserto, l'oceano sconfinato, battaglie navali, duelli, intrighi, vendette, morti sanguinose senza aver mai posto piede sulla prua di una nave. Questa forse è la cosa più particolare in assoluto di Emilio Salgari. Si è documentato, ha letto, ha scritto. Infatti molti brani dei suoi romanzi sono addirittura a enciclopedici, si sofferma spesso a descrivere in maniera dettagliata gli animali, le piante, l'ambiente, come se volesse anche lui viverli attraverso le proprie stesse parole. Questi romanzi sono piccoli gioielli di letteratura, ci portano in posti lontani, ci fanno assaporare il profumo del vento, il salmastro, ci fanno sentire il sartiame delle navi che scricchiola. E' veramente importante non perdere l'abitudine di leggere Emilio Salgari, di non perdere l'abitudine di leggere di avventura e di mantenere sempre intatta la capacità di immaginare posti lontani, esattamente come faceva lui.